Un pari importante, un pari contro una squadra che con l'ultimo posto non c'entra niente, basta guardare solo la distinta. Una squadra tosta, una squadra viva, quindi direi un punto veramente importante. Mantua ora quota 38 punti, sei d'accordo? Si intravede davvero ora l'obiettivo salvezza? Ma l'obiettivo salvezza lo sappiamo, è sempre lì, alla portata, però non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo due partite difficili adesso, quindi iniziamo subito a prepararle. Appianato che ora entra nel vivo, i prossimi due impegni sono Modena e Sud Tirol, è un calendario molto riuscito e ricco di impegni difficili. Sì, ma sostanzialmente per noi Modena, Sud Tirol, che sia Arezzo o qualsiasi squadra, e in caso di vittoria porta tre punti, quindi una vale l'altra e non vediamo l'ora di affrontare il sud tirolato. Un'ultima domanda, Raffaolo, secondo te su Pinton? Ma non lo so, non voglio stare a parlare degli arbitri, pensiamo a noi stessi, sicuramente voglio fare complimenti ai ragazzi perché oggi hanno fatto una prestazione veramente importante. Possiamo comunque parlare di un mantone che sta crescendo? Assolutamente sì.